Era eb... ebraico? What the actual fuck? Ma che cazzo è l'elfico? Non è possibile! Questa cosa non è possibile! Non è, non è... Poi è medium, capisci? Ma in quale Cristo di Dio di universo io dovrei sapere per difficoltà media cosa cazzo è la lingua dell'Aos? Language Casser è un gioco che praticamente giochi a essere ma devi indovinare la lingua quindi ti fanno sentire un audio io automaticamente devo rimettermi le cuffie perché non ho ragionato su questa cosa ti fanno sentire un audio e da quell'audio tu devi indovinare quale lingua è e comprendere in quale nazione del mondo ti trovi sarà molto divertente sentire un cinese e dire va bene signori allora non perdiamo altro tempo azzeriamo le cazzate e allora il gioco è questo qua abbiamo tutta la mappa del mondo però non so perché tipo la Cina la traduce così cioè io non posso sapere che posto è questo vabbè questo è il Giappone vabbè dai in qualche modo ce la facciamo signori si parte sembra quel classico tipo che su youtube ti fa tipo eeeh hello how are you this is eeeh Jose from Amazon ha detto salam halam khah quindi è sicuramente qualcosa vedi queste cose come si chiama sta roba tipo vabbè eeeh questi cosi dai lo sapete pure voi come si chiamano sono i i bastoncini qua che è da destra a sinistra io direi arabo eeeh arabo ma qual è arabo vabbè dai mettiamo emirati arabi a priori anche se non ho sbagliato era urdu vabbè e l'urdu a quanto pare è una lingua che viene parlata in Pakistan aspetta cosa ci sento molto francese di mezzo o sbaglio no questa è una lingua slava questa è tipo albanese o giù di lì è una lingua mega slava senti qua allora non è russo perché il russo è molto più forte è un russo una lingua slava molto influenzata dall'Europa è una roba che sta tipo tra la slovenia ma sai che la slovenia non è brutta rumeno rumeno io butto su bucuresti che dovrebbe essere bucarest era ebraico what the actual fuck ebraico what israel ma che cazzo non era una religione l'ebraico tipo era turco non è turco questo ma che cazzo è ma non ho mai sentito un turco parlare così di solito i turchi parlano stavo per dire una cosa mega razzista sul kebab ma che cazzo è l'elfico è letteralmente quello che legge Galadriel all'inizio del Signore degli Anelli ma senti qua questo è norvegese ragazzi perché io mi ricordo che all'inizio della cosa di John Carpenter quando arrivano i i svedesi però erano non norvegesi e svezia no erano norvegesi ragazzi erano norvegesi va io la butto in Norvegia easy la cosa bella è che io mi concentro a trovare tutto un senso logico ed era ed era il welsh che cazzo è il welsh il galles dovrebbe essere il galles non è rumeno non è rumeno però ma sai che anche Russia non è male o anche Bulgaria effettivamente allora è inutile che lo continui a riascoltare perché tanto non ci capirò mai un cazzo è il russo ma proviamo Russia che cazzo è la frutta è la macedonia c'è qualche macedone in chat chi lo sa me la voglio trustare vi dico Grecia vi trusto greco è il greco 100% Poldo te ne ho sicuro che è il greco c'è anche francese di me io sento slavo è Ucraino qual è l'Ucraina? è questa l'Ucraina eccola qua Ucraina let's go tu rendah tapi ternyata le coset ataupun saudara putinia tu meningkat eh che cazzo è Pugliese trombositnya rendah tapi ternyata trombositnya trombositnya rendah trombo intanto piano io credo che quest'audio me lo salvo perché veramente è una delle cose più divertenti che ho sentito oggi senti io metto India era indonesiano era indonesia non è possibile però sti jumpscare così India non me ne ho fottuto un cazzo let's go vedi vedi quando a sentimento deve essere la prima che ti viene in mente la devi mettere era India questa qua era una canzone da film Bollywood easy ragazzi non lo so non lo so proprio io provo Nigeria così a sentimento era il lao del laos io conosco il laos solo perché boll l'hanno nominato forse una volta in tutta la mia vita il laos poi è medium capisci ma in quale cristo di dio di universo io dovrei sapere per difficoltà media cosa cazzo è la lingua del laos io dico somalia così a sentimento tanto raga non lo indovineremo mai se è una lingua africana vai somalia vai cosa come è possibile non è possibile questa cosa non è possibile non è non è non è non è non può essere ma è incredibile questa cosa vabbè la sparo perché tanto non non può fare niente mozambico no era indiano ma ha detto africi ma l'africa chi è l'africa credo nella lingua nel malaya la piscia l'esclero eh abiscia l'esclevo boh la piscia l'esclero raga questo che cazzo è ma perché devi aumentare era greco no io resetto la pagina no va bene era greco era greco non va bene non va bene fanculo zanzala di merda rumeno questo è rumeno dai no è polacco slovenia slovenia la slovacchia porca puttana quindi slovenia e slovacchia sono due cose diverse india non ce la faccio più poi ha parlato pure nell'isola di natale ma che cazzo non ce la faccio più 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 non ce la faccio poi l'ho bocciato in geografia ma che cazzo c'entra la geografia con le lingue romeno era croato basta niger non ci posso credere ma non ci posso fottutamente credere era la nigeria io ho messo il niger così no eh no così no napoletano non lo so finlandia scottese what the fuck is scotland scotland forever io acabei por passar molto tempo da infanzia da adolescenza no distrito di Stubal ci siamo Germania Turquia ok quando me perguntano d'onde è che sono io costumo Turquia Italia allora io ho sentito ogni dialetto possibile so che esiste l'abruzzese che non conoscevo ho scoperto il pugliese ho scoperto il veneto li ho scoperti tutti ma questa lingua io non l'ho mai sentita in Italia picciopi cancioni cina indonesia perfetto parlano di Putin parlano di Putin è un telegiornale slavo che parla di Putin può essere Ucraina come può essere Bielorussia come può essere Russia me la sento su Ucraina io era Georgia vabbè chi è Georgia chi cazzo è Georgia ci siamo Europa questo è qualcosa tipo che viene dal Deutsch è tedesco è tedesco è tedesco Netherlands è Dutch ok è olandese siete tutti sicuri bravi oh è una prima volta l'applaud ma come cazzo fate a conoscere l'olandese tutti in chat tedesco olandese o la stessa cosa c'è da discutere mo' è tagalo che mi ammazzo no è per a pangia perfetto ora non si fanno sbagli un resumem se patiesi batats che ieguvei bus tie kuri šodien sacks domat par to traduci doma in italiano doma significa casa in slovacco è slovacco è slovacco vaffanculo allora dov'è la slovacchia piano è questa slovacchia 3 2 1 gallese dove cazzo è il galles è tutta un'unica cosa va bene cioè capito vaffanculo farò una cosa per coronare la serata SCOTLAND FOREVER SCOTLAND